Nonostante l'efficacia del provvedimento del governo che obbliga i benzinari ad esporre il dito medio, non si plagano le polemiche sul caro carburanti. Il ministro della povertà, Lollobrigida, ha dichiarato Le polemiche stanno a zero. I poveri sul caro carburanti sono avvantaggiati. Con le loro utilità e da pezzenti hanno dei consumi decisamente inferiori a uno come me, che è stento arrivare a fine mese così come fa Fassino. Trovata la causa della preoccupante moria di pesci nell'Adriatico, Un turista ha perso in acqua un libro di Joe Evan. È già pronto l'albero di Natale della Ferragni. Ci sono però problemi per accenderlo. La ditta costruttuice dichiara Funziona con i comandi vocali. Basta dire una cosa intelligente.